A Durbino è in corso una bella mostra al Palazzo Ducale sulla bella principessa di Leonardo. Questo è il biglietto dell'ingresso al Palazzo Ducale, costa solo 8 euro e consiglio a tutti, coloro che si troveranno nelle zone o che vogliono farsi un giro nelle marche, di andare in questa bella città a vedere uno dei capolavori dell'architettura italiana che è il Palazzo Ducale di Durbino, che è uno scrigno di bellezze del nostro paese e nello stesso tempo questa mostra è un ulteriore motivo per regarsi a vedere una città magnifica e un posto che sta facendo un percorso, tra l'altro la città di Durbino e il Monte Feltro, verso un riconoscimento internazionale sempre più importante, un turismo sostenibile che stanno investendo sul biologico e quindi io credo che vada premiata anche una regione come quella delle Marche che è il leader delle regioni OGM Free e le regioni che hanno coniugato arte, qualità del vivere, sviluppo sostenibile, biologico. Andiamo a visitare il Palazzo Ducale di Durbino.